Bocciata la sfiducia, ora la parola deve tornare alla politica. Carmine De Blasio respinge l'ipotesi di dimissioni e fa appello alla responsabilità di tutte le anime del PD per il bene del partito. Ciò che è successo a Capriglia resti a futura memoria di chi ha voluto mostrare i muscoli, ottenendo come unico risultato la spaccatura dei democratici. Nel mirino ci sono soprattutto i cosiddetti mandanti dell'operazione Canaglia, in particolare Festa, i ex alleati Famiglietti e D'Amerio, che nonostante il risultato hanno avanzato la richiesta del commissariamento. De Blasio è raggiante. Questa vicenda per me resta incomprensibile. Mi volevano sfiduciare come fossi un delinquente e un criminale senza alcuna motivazione politica. Hanno ottenuto solo una figuraccia. L'analisi del segretario arriva a 48 ore di distanza dall'Assemblea provinciale. De Blasio sottolinea con favore le parole della segretaria regionale Tartaglione di Francesco Todisco sulla necessità che si trovi una via d'uscita politica, rinunciando alle forzature. Il problema è capire se ci sono le condizioni per sedere intorno allo stesso tavolo. C'è però chi, nonostante il risultato, insiste per il commissariamento. Ora, c'è chi sceglie di rimanere arroccato su una posizione di rottura, di frattura dentro il partito e io credo che continui a dare un esempio irresponsabile dal punto di vista politico. Poi, non c'è la condizione, non si determina la condizione. Mi pare di leggere qualche disponibilità in questo percorso di maturità politica che va valorizzata. Non si dovesse concretizzare questo percorso dal punto di vista politico la storia è finita a Capriglia. Per quanto mi riguarda, la storia è finita a Capriglia, a futura memoria. Dopodiché, non c'è questa condizione, il segretario provinciale, questo lo dobbiamo spiegare bene, perché mi dice, ma perché non ti dimetti? Ma io mi dovrei dimettere perché poi tre o quattro si chiudono in una stanza e si eleggono loro un segretario provinciale che non è eletto dagli iscritti. Io dovrei essere complice di un'operazione canaglia che è clamorosamente fallita. No, invece noi torniamo ad essere un po' tutti seri e responsabili. Scendiamo dalle nostre posizioni, sono il primo a farlo, e cerchiamo di capire se c'è la possibilità di dare a questo partito un percorso di responsabilità, di impegno responsabile. Se c'è questo, avremo evitato di fare un ulteriore figuraggio.